Ciao a tutti dal Criticone, questo che vedete è un prodotto che mi è stato inviato dalla ditta I Gadgets, si tratta di una lanterna per chi va in campeggio, come vedete c'è il disegno qui della tenda, questa lanterna ha diverse caratteristiche, non è una classica lanterna, andiamolo a vedere, innanzitutto vorrei dirvi che nella confezione è presente questo libricino di istruzioni che vi mostra come inserire le tre batterie, i torcioni di tipo D che non sono comprese nella confezione e oltre a questo vi spiega come richiudere il vano batteria, questo perché siccome questa lampada è resistente all'acqua c'è in qualche modo la possibilità che non riusciate a chiuderla bene, allora un'altra cosa importante che posso dirvi visto che ce l'ho qua in mano, questo libricino di istruzioni ne sono presenti due, il primo in tedesco e il secondo multilingua, quindi abbiamo anche l'italiano tra le lingue disponibili, andiamo a vedere la lampada, la lampada è questa qui, allora qui c'è il vano batteria, come vedete, qui abbiamo delle freccette, la vedete qui e qui e vi serviranno per richiuderlo, perché vedete questa tacca, vediamo se riesco a mostrarvela, è questa qui e qui abbiamo una piccola scanalatura, se ci riesco, eccola la mostro, vedete qui, che andranno fatte combaciare, perché altrimenti non chiuderete il vano batteria, scusate ma con la videocamera davanti non riesco a vedermi, ecco qua, fatto, chiuso, questo qui è un gancio a scomparsa, perché il gancio a scomparsa, perché se siamo all'interno di una tenda, la notte possiamo appendere sotto sopra la nostra alterna, tanto non abbiamo alcun rischio di dar fuoco a niente, visto che comunque ha batteria, la lampada in questione, qui ha la maniglia per poterla portare, andiamo a vedere davanti, allora qui davanti noterete un piccolo led, questo piccolo led ci permetterà al buio di individuarla, perché lampeggerà ogni tanto facendoci capire dove si trova la lampada nel caso dovessimo andare a accenderla, questo è il pulsante per accenderla, ci sono tre modalità, abbiamo la modalità luce bassa, la modalità luce alta e la modalità lampeggiatore, e la modalità lampeggiatore in genere viene utilizzata nel caso di pericolo o comunque di SOS, quindi non è sicuramente il caso nostro, quindi andiamo a concentrarci sulle altre due. Questa è la prima modalità, come vedete si nota il refresh, questo perché la lampada led presente all'interno è una lampada che ha un refresh basso, allora mediamente le luci led dovrebbero avere almeno 30.000 lampeggi al secondo, questa probabilmente ne avrà 20.000 o ne avrà un po' di meno, pertanto notiamo queste bande orizzontali sui video, e queste bande in effetti le troveremo anche nella realtà, cioè noi non ce ne accorgiamo dal vivo, perché la vediamo accesa bene, ma se facciamo questo movimento noteremo, come quando siamo in discoteca che accendiamo lo strobo, noteremo i nostri movimenti a scatti. Andiamo a premere il tasto, questa è la luce potente, come vedete si è aggiustato il refresh, perché la sua intensità è aumentata, producendo più luce, e a questo punto diciamo che la vediamo fluida. Questa modalità ci fornisce 300 lumen di potenza. La prossima sarà quella al lampeggio, ecco qua, come vedete fa l'effetto simile a quello prima delle bande orizzontali, cioè che vediamo lo scatto, proprio dovuto a questo tipo di refresh. Allora, una volta spenta, qui comunque abbiamo la nostra, diciamo, lampada, andiamo a smontare la parte sopra, così vi faccio vedere come è il bulbo all'interno. Questo è il bulbo led, lo faccio vedere meglio, è protetto da questa, diciamo, superficie di plastica, questo perché è risaputo che andando a toccare le lampade si rischia di danneggiarle, mentre invece questa è la nostra, diciamo, scocca che abbiamo sopra, se vedete all'interno è presente questa sagoma fatta a cono, come se fosse un cono ribaltato. Questo perché? Perché andrà a effettuare, vedete che, diciamo, è formata da tante piccole smerigliature, questo perché andrà a formare un effetto molto simile a quello delle luci Fresnel per aumentare la potenza della luce. Andiamo a rimetterla. Vi ricordo che questa lampada è water resistant, quindi se gli arriva un'ondata tremenda d'acqua addosso non succede nulla, non rischiate nulla e non prenderà fuoco niente, né si romperà il dispositivo. Vedete i lampeggi che fa per consentirci in eventualità di buio di riuscire a scovarla? Ecco qui. Allora, per 19 euro direi che è un prezzo adeguato. Diciamo che, volendo essere pignoli, c'è da tener conto del formato, diciamo, un po' in solito delle batterie, ma questi gli effetti conferiscono anche molto peso, perché a quel punto diventa, diciamo, più consistente e se la poggiate a terra non rischiate che si rovesci. Penso che sia tutto. Ve la consiglio. Se volete vedere maggiori informazioni andate a vedere nella descrizione della recensione. Se il video vi è piaciuto regalatemi un pollicino in su. Vi ricordo che nella descrizione di questo video è presente il link della mia recensione su Amazon. Andate a dargli un'occhiata. Se vi piace votatemela con il classico mi piace. Se volete continuare a seguirmi, iscrivetevi al canale. Alla prossima!